carissimi amici e amiche bentornati alla puntata del ciclo di catechesi sulla dimensione sessuale dopo il peccato originale siamo giunti abbastanza avanti in questo ciclo di catechesi oggi se dio vuole termineremo la parte relativa alla magistero della chiesa quindi agli interventi autorevoli del magistero della chiesa e inerenti al nostro tema prima di passare poi all'ultima parte di questo ciclo di catechesi che sarà l'andare a esplorare gli scritti di maria valtorta prima di trarre poi le conclusioni sto pensando se forse non sarà il caso molte catechesi poi si vanno strutturando in corso di via forse potrebbe essere il caso ad ulteriore avallo delle considerazioni che andremo a fare considerare anche un altro testo molto bello e molto importante che ha sempre la caratteristica della rivelazione privata che è il libro di tenera amata alcuni suoi passaggi che sono utili a far comprendere a mio avviso alcuni passi del vangelo e anche alcune cose che ancora andremo ulteriormente vedendo e verificando prima della fine di questo ciclo la volta scorsa ci siamo fermati prima dell'intervento di papa pio undicesimo con l'enciclica casti con nubi perché è veramente un pezzo da 90 un piccolo capolavoro di di perle magisteriali quindi merita assolutamente di essere considerata a parte e anche il successivo intervento di pio dodicesimo con l'enciclica sagra virginitas un altro capolavoro questi sono documenti veramente meravigliosi a mio avviso che andrebbero letti per intero evidentemente in questa sede non è possibile farlo però chi avesse tempo e voglia si trovano facilmente online quindi da casti con nubi di pio undicesimo che se non ricordo male del 1933 se non ricordo no del 1930 non 1933 mentre la sagra virginitas è del 1954 di papa pio dodicesimo questi due testi e concludono ripeto la rassegna magisteriale che l'anno scorso che la volta scorsa ci ha lasciati alle considerazioni del concilio di trento relative ai canoni sul sacramento del matrimonio quindi il rapporto tra matrimonio e virginità come chi ha seguito chi sta seguendo dovrebbe ricordare quindi partiamo subito con la lettura del testo e quindi del del degli argomenti che questa sera se li vuole affronteremo si parte subito con la citazione della dell'enciclica e del brano che viene poi fatto oggetto di analisi quantunque iconogi cristiani per quanto siano essi santificati non possano trasfondere nella prole la santificazione perché anzi la naturale generazione della vita è divenuta via di morte per la quale passa alla prole il peccato originale tuttavia essi partecipano in qualche modo di quel primitivo coniucio del paradiso terrestre essendo loro ufficio offrire la propria prole alla chiesa perché da questa fecondissima madre di figli di dio venga rigenerata per mezzo della vagro del battesimo alla giustizia soprannaturale e perché venga fatta membro vivo di cristo partecipe della vita immortale e infine erede della gloria eterna alla quale tutti aneliamo nell'intimo del cuore dall'intimo del cuore non sarà sfuggito ad un ascoltatore attento anche in base a questa lettura abbastanza veloce il punto che il papa sottopone all'attenzione e che è sempre necessario chiedersi se i genitori sono santi quindi supponiamo no battezzati comunicati cresimati sposati in chiesa vanno a messa tutti i giorni dicono quattro losari al giorno mettiamocelo tutte quelle possibili immaginabili accorto vanno a concepire un figlio nasce infetto come è possibile che nasce un figlio infetto da due genitori santi domanda domanda pertinente com'è possibile ecco andiamo un attimo a sentire cosa dice il nostro autore no in questo testo più undicesimo sembra rispondere sembra quasi rispondere 15 secoli dopo allo stupore addolorato di sant'agostino quando diceva è un fatto straordinario che persone liberate dal vincolo del peccato mediante la grazia generino tuttavia dei figli irretiti dallo stesso vincolo dal quale devono essere liberati allo stesso modo lo confesso è straordinario liberate dal vincolo del peccato mediante la grazia attenzione sia la grazia personale sia la grazia del sacramento del matrimonio che ormai ormai lo sappiamo rende lecito il complimento degli atti da cui nasce la vita quindi ci sai nato fuori del matrimonio per carità ma dentro sant'agostino 15 secoli prima dice mamma mia più undicesimo asserisce che nonostante che i conogli siano santificati dal battesimo non possono trasmettere questa santificazione figli ma anzi la naturale generazione della vita è divenuta via di morte per la quale passa alla prole il peccato originale questa è una frase evidentemente molto interessante perché questa affermazione qui certamente bisogna rievocare anche passaggi che certamente sono stati dimenticati no però nelle catechesi precedenti le trovate perché il testo l'abbiamo esaminato tutto quanto quindi questa affermazione ha una grande somiglianza con un passo esaminato appunto a suo tempo e di teodoreto di ciro che diceva così avendo il peccato dominato sui nostri progenitori esso si aprì una via un cammino attraverso la generazione commentando tale brano a suo tempo dicevo che è possibile ipotizzare che il peccato di origine si sia aperto una via di trasmissione non solo mediante la generazione ma attraverso la modalità della generazione cioè il modo attuale di generare non voglio certo dire che più undicesimo intendesse dire questo questo non lo possiamo sapere voglio solo dire che a mio parere è possibile una tale interpretazione del testo magisteriare anche se il papa non fosse stato a suo tempo consapevole di tale possibilità a questo riguardo voglio esprimere una mia opinione facendo un paragone con le profezie della sacra scrittura i testi profetici della bibbia racchiudono diciamo così vari livelli di interpretazione dalla prima e più immediata immerse a riferentesi al contesto storico in cui la profezia viene proclamata ad altre che si riferiscono ad eventi che sarebbero accaduti secoli dopo prendiamo ad esempio la cosiddetta profezia dell'emmanuele ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà emmanuele nel suo contesto storico la profezia si riferisce alla nascita di ezechia figlio del reacaz ma fin dal vangelo di matteo però la chiesa assistita dallo spirito santo è riconosciuto nel passo profetico l'annuncio del concepimento virginale di gesù da parte di maria santissima significato che può darsi sia rimasto sconosciuto allo stesso profeta esaia in modo simile la mia opinione è che anche i testi del magistero siano suscettibili di diversi livelli di interpretazione di alcuni dei quali magari non erano consapevoli gli stessi padri conciliari o gli stessi pontifici che li hanno scritti o proferiti voglio però chiarire che qualsiasi mia personale interpretazione della sacra scrittura e dei testi del magistero la sottometta il giudizio della santa chiesa mi fermo un attimo perché quello che dice quest'autore allora per quanto riguarda i testi biblici è sicuro non c'è nessun dubbio che in tantissime circostanze l'autore sacro che ha scritto comunque ispirato dallo spirito santo come autore umano ispirato quindi mettendoci come dire del suo nel senso che ha pensato prima di scrivere e ha scritto sulla base di come di come si scriverebbe normalmente anche se si tratta di scrittura ispirata è assolutamente normale che dio faccia una cosa di questo genere cioè gli fa scrivere una cosa che ha un senso compiuto e nella mente di dio va ben oltre quello che l'autore aveva scritto questo nella sacra pagina è frequentissimo può succedere anche in un documento magisteriale a mio avviso io sono d'accordo con lui certamente sì perché quando c'è una qualche ispirazione dello spirito santo cioè sappiamo che il magisterio in alcuni casi può diventare addirittura infallibile quindi lì proprio risponde lo spirito santo in un certo senso nel senso garantisce più che risponde lo spirito santo in ogni caso quando si tratta di un testo magisteriale è chiaro che ci deve essere una qualche ispirazione ed è chiaro quindi che è possibile che l'interpretazione di un testo possa andare anche oltre l'intenzione dello scrivente è possibile nella scrittura è frequentissimo qui certamente è possibile ci abbiamo un precedente del resto come dire eccellente nel vangelo di san giovanni non Gesù l'evangelista san giovanni quando Caifa pronuncia la frase è possibile è preferibile che muoia un uomo solo piuttosto che muoia tutto il popolo aggiunge subito questo però non lo disse da se stesso ma siccome era sommo sacerdote profetizzò che doveva morire uno per la salvezza di tutti ma lui certamente non intendeva questo non intendeva assolutamente questo qui lo intendeva facciamo fuori questo qui prima che scoppi una sommossa e Ponzio Pilato ci faccia fuori a tutti quanti questo è quello che intendeva che a Caifa senza nessun dubbio però era sommo sacerdote e attenzione il sommo sacerdote anche dell'antica alleanza fino a quando Gesù non ha istituito la nuova l'ultima cena cioè era stata appena celebrata le cariche erano ancora come dire in corso diciamo così no quello parte il fatto che questa frase era pronunciata non dopo l'ultima cena ma prima quindi perché dopo l'ultima cena e fossero ancora in corso c'è qualche dubbio perché quando Gesù dice la nuova ed eterna alleanza qui il passaggio è un po' delicato ma questa frase la disse qualche giorno prima Caifa dell'ultima cena quindi questo è un precedente eccellente quindi possono esserci certamente possibile tornando comunque al brano dell'enciclica c'è da dire che anche l'affermazione che iconogi nonostante la generazione della vita sia divenuta via di morte per la quale passa alla prova il peccato originale tuttavia partecipano in qualche modo di quel primitivo coniucio del paradiso terrestre essendo il loro ufficio offrire la propria prova alla chiesa perché da questa fecondissima madre di figli di Dio venga rigenerata per mezzo dell'avago del battesimo alla giustizia soprannaturale vista attraverso la lente dell'ipotesi su cui stiamo riflettendo può essere interpretata nella maniera seguente nel primitivo coniucio progettato da Dio l'uomo e la donna avrebbero generato i figli tramite un'unione d'amore solo spirituale alla giustizia soprannaturale cioè trasmettendo lo stato di santità e di giustizia originali ossia la partecipazione alla vita divina nella condizione odierna di natura lapsa in cui l'attuale modalità di generazione alla sola possibile trasmette il peccato di origine ai figli che quindi vengono concepiti e nascono senza la partecipazione alla vita divina tuttavia i conugi cristiani possono ancora partecipare in qualche modo al primitivo coniugio progettato originariamente da Dio offrendo la propria parole alla chiesa perché la digeneri come battesimo alla vita soprannaturale è donata da Dio cioè che che cosa sta 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 dicendo se i figli fossero nati come dovevano nascere erano ad un conto erano ad un tempo figli di figli dell'uomo e figli di Dio d'accordo sarebbero nati sarebbero nati perfetti avrebbero ereditato la condizione di perfezione dei genitori ora non è così quindi nascono come figli degli uomini feriti ma portandoli al fonte battesimale ricevono dal fonte battesimale qui certamente i genitori lo devono portare quella vita soprannaturale che ora non sono più in grado di trasmettere da loro stessi nonostante si stessi siano buoni santi e in grazia questo è un particolare molto molto interessante questo qui è anche questo molto interessante perché significa ho una prima battuta che è il modo di generazione attuale che è marcio d'accordo ed è irreversibilmente marcio questo dobbiamo mettercelo bene in testa cioè nonostante il sacramento il sacramento del matrimonio che cosa fa toglie la peccaminosità dell'atto negli agenti il marito e la moglie ma l'atto rimane l'atto rimane atto a trasmettere il peccato originale perché si trasmette in quel modo questo dobbiamo questo amici e miei d'accordo o non d'accordo cioè se uno sta dentro la dottrina cattolica anche lasciando perdere tutto quello che ci siamo detti e tutto quello che diremo questi sono dati oggettivi ce lo siamo già detto io torno perché dopo quando faremo la sintesi noi dobbiamo sempre tenere presenti distinti i dati oggettivi su cui dobbiamo comunque lavorare e anche tutte quante le riflessioni che stanno facendo i padri anche qui il papa si basano su questo fatto cioè la considerazione di di sant'agostino ma guarda un po che questi sossanti e vanno figli infetto ma come è possibile è una cosa strana specialmente poi per il secondo agostino che si è andato su questo a mio parere a regredire rispetto al primo agostino perché se tu dici vabbè questa qui era cioè la generazione attuale del della vita era addirittura prevista in stato di giustizia originale quindi quando dio dice crescete moltiplicatevi dice questo allora dice questo bene e allora com'è che è toccato originale trasmesso proprio attraverso questo da genitori sani quindi per il secondo agostino la poria diventa ancora più grande se invece l'ipotesi che faremo è vera la poria cessa del tutto cioè diventerà comprensibilissimo il senso di questo discorso di questo percorso che stiamo facendo come anche il senso della teologia stessa questo è chiaro che è un percorso teologico così che capiamo che sì qual è il senso della teologia noi abbiamo delle verità di fede d'accordo verità di fede che in quanto verità di fede per antonomasia non si possono perfettamente spiegare con la ragione perché se si potessero perfettamente e in tutto e per tutto spiegare comprendere senza che così che rimane tutto quanto chiaro senza che rimane qualche zona come dire d'ombra nebulosa non sarebbero più verità di fede però un conto è che tu inquadri un po' il problema capisci qualcosa e comunque rimane una zona d'ombra un conto è che tu non capisci niente cioè ti trovi dinanzi a dei dati oggettivi che rimangono cioè ripeto alcune domande che fanno anche i giovanotti perché io non posso avere rapporti prematrimoniali ma dice no ci vuole soltanto un uomo per tutta la vita valore facciamo così io firmo una carta la firmo da prima del tempo diciamo dio nel suo progetto ci sta un uomo per una donna va bene io firmo una carta pure se non siamo sposati di guarda o mi sposo con te oppure faccio voto di castità promesso giuro tanto non è che c'è il matrimonio poi adesso ci sta il divorzio quindi che differenza c'è giuro e perché dopo si e prima no se vengono i figli ce li prendiamo ma no perché i figli devono avere una famiglia stabile devo comunque avere un consorzio stabile sì sarebbe meglio va bene se vengono ci sposiamo subito glielo diamo subito consorzio stabile che gli andiamo a rispondere a due ragazzi che dicono una cosa del genere perché qualche cosa ah no è peccato punto e basta che sia peccato non ci piove ma si può rispondere è peccato punto e basta quelli dicono cioè io per carità voglio voglio essere obbediente ma non mi puoi dire che è peccato punto e basta meno che mai cioè l'assurdo che cioè una cosa è peccato prima e non è peccato dopo che succede attenzione che se questa cosa invece è vera io ho detto altre volte si configura una cosa di questo genere capito cioè una analogia sia pure evidentemente alla lontana cioè compiere un atto sessuale prima del matrimonio è simile al fatto che un seminarista cioè un prete uno che diventerà prete vada a celebrare la messa prima che diventa prete non soltanto che è una cosa grave ma una cosa gravissima con la differenza che se io celebro la messa prima del sordinato prete inganno le persone anche se faccio un rito esteriore che è identico all'attuale e non succede niente perché non è che diventa il pane corpo di cristo e il vino sangue di cristo invece se uno come dire è compie il sacramento del matrimonio prima che si sposi i bambini nascono uguali se ci sono le circostanze però attenzione con tutte le aggravanti del caso se se tutto quello che ci stiamo dicendo fosse vero andiamo a vedere la splendida enciclica sagra virginitas di più dodicesimo può darsi che faremo in tempo a introdurre l'ultima parte allora anche qui parte direttamente con la citazione del brano che è interessante ai fini dell'analisi in corso della datazione in corso abbiamo recentemente condannato con tristezza l'opinione che presenta il matrimonio come il solo mezzo di assicurare alla personalità umana il suo sviluppo e la sua perfezione naturale specialmente nel contesto attuale dove si continua a prospettare ecco è sempre in maniera sempre più incalzante abbiamo cominciato con i sinodi dell'amazzonia questo è storia questo qui è quindi ai sinodi dell'amazzonia ci sono state proposizioni che chiedevano l'ordinazione sacerdotale dei viri probati grazie a dio non sono state recepite dalla santa sede nella esortazione post sinodale ma ci sono state poi ci ritorniamo alcuni infatti sostengono che la grazia concessa dal sacramento in virtù dell'azione sacramentale in sé santifica l'uso del matrimonio fino a farne uno strumento più efficace ancora che la verginità per unire le anime a dio poiché il matrimonio cristiano è un sacramento mentre la verginità non lo è queste cose sono state dette e manca una volta sola e da fior di teologi o quantomeno ritenuti tale io chi dice una cosa di questo genere con il dovuto rispetto per carità ma fior di teologo non lo ritengo ma chi ha detto queste cose era ritenuto tale capiamo no allora il matrimonio è un sacramento quindi il matrimonio è santificato quindi chi usa del matrimonio c'ha una grazia in forza della della sacramento del matrimonio per cui diventa più santo di una persona che è vergine perché la verginità non è un sacramento la verginità tu rimani così come stavi io invece c'ho un sacramento capito si picchia insomma quindi questa è papa pio dodicesimo reagisce dicendo subito noi denunciamo in questa dottrina un errore pericoloso certo il sacramento accorda agli sposi la grazia di adempiere santamente i loro doveri coniugali e consolida i vincoli dell'amore reciproco che riunisce ma non fu istituito per rendere l'uso del matrimonio quasi il mezzo in sé più atto ad unire a dio l'anima degli sposi col vincolo della carità capito quello che sta dicendo cioè il matrimonio è stato istituito non perché così si cresce nell'amore di dio e sia ancora più neti a dio no ma per rendere santi l'adempimento dei doveri coniugali che altrimenti santo non sarebbe questo sta dicendo quando l'apostolo san paolo riconosce agli sposi il diritto di astenersi per qualche tempo dall'uso del matrimonio per attendere alla preghiera non viene precisamente a dire che una tale rinunzia procura l'anima maggiore libertà per attendere alle cose divine pregare ho già detto a suo tempo ci vogliono tutte le cautele del caso e mi raccomando le persone sposate o che si devono sposare usino per favore il cervello il buonsenso e un po di grano salis ok per favore ecco perché altrimenti queste cose qui come tutte quante le cose ricordiamo sempre l'adagio di aristotele poi ripreso da san tommaso che omnia recipi dura al modo un continentis queste cose vanno recepite col cervello non è che uno sente queste cose facciamo tutti quanti i matrimoni giusti seppini perché se no la razza umana viene esterminata si estingue d'accordo facciamo facciamo la gioia dei globalisti e di quelli che vogliono ridurre la popolazione mondiale così non li facciamo più pegnate cioè adesso il problema è che i figli sono pochi d'accordo i figli bisogna farli magari se trovassero coppie aperte santamente alla vita d'accordo però la ridime il ridimensionamento della sfera sessuale che oggi è ipertrofi c'è un ipertrofia spaventosa c'è una pan sessualizzazione è una cosa necessaria e che una coppia di sposi sappia che se se la sentono insieme di fare un tempo di astinenza limitato siamo in quaresima se c'è qualche coppia santa bisogna essere d'accordo tutti e due non devono essere questo diventare un momento che per cui litigano e vanno a fare la guerra durante la quaresima vogliamo offrire al signore in quaresima astinenza ah no no questa è una cosa che fa male al matrimonio no non fa male al matrimonio fa bene al matrimonio purché sia limitata e sia fatta di comune accordo dice san paolo non è obbligatorio solo se se la sentono tutti e due se lo maturano come un sacrificio da offrire volontariamente al signore ma se se fa allora attenzione che adesso leggo il seguito no quindi quando l'apostolo san paolo riconosce gli sposi il diritto di astenersi per qualche tempo dall'uso del matrimonio per attendere alla preghiera non viene precisamente a dire che una tale rinunzia procura l'anima maggiore libertà per attendere alle cose divine pregare infine non si può affermare come fanno alcuni che il mutuo aiuto ricercato dagli sposi nel matrimonio sia un aiuto più perfetto per giungere alla santità che la solitudine del quale delle vergine dei celibi quando mai di fatti nonostante la loro rinuncia un tale amore umano le anime consacrate alla castità perfetta non impoveriscono per questo la propria personalità umana poiché ricevono da dio stesso un soccorso spirituale immensamente più efficace che il mutuo aiuto degli sposi nel mio piccolo se mi posso permettere di questo ne sono non testimone di più e io affermo tranquillamente l'ho sempre detto e lo dirò sempre dovunque che se dio non voglia e poi io voglio veramente sperare che dio non voglia che ci risparmi almeno st'altra piaga nella santa chiesa che già ce ne sono abbastanza dovessero come dire autorizzare i matrimoni a sposarsi ma a sarebbe nemmeno per la pre anticamera della pre anticamera della pre antimaticamera del pre cervello non rinuncerei mai a quello per nessun motivo pur con tutto l'amore la differenza il rispetto e la gioia che ho nel vedere le belle famiglie le sane famiglie e le sante famiglie che sono una cosa meravigliosa perché c'è quel tipo di ma io non rinuncerei mai a una cosa di questo genere anche morto neanche morto figuriamo se mettessero per assurdo comprate si deve sposare perché se non c'è la moglie non sarà un buon prete ora di che andremo a fare l'eremita andremo a fare prete d'accordo per dire in questo testo pio dodicesimo ribadisce la perenne dottrina della chiesa riguardo la superiorità della virginità sul matrimonio o attenzione a chi scrive questo testo è un uomo felicemente sposato cioè la dottrina della della superiorità della virginità sul matrimonio non deve essere come dire sbandierata da chi mi dice ma tu sei un prete tu sei vergine per forza che dici sta cosa questo questo patrimonio della chiesa cattolica cioè le coppie degli sposi devono dirla questa cosa e devono esserne e devono guardarla come una cosa bella come una cosa brutta anche perché Gesù e Maria questo sono stati Gesù e Maria erano vergini non erano non hanno conosciuto il coniugio umano Gesù non si è sposato e la Madonna sì e no quindi sì e no sposa ma non moglie analizzando attentamente il testo magisteriale possiamo notare un'accurata distinzione tra matrimonio e uso del matrimonio una cosa è il matrimonio che come abbiamo visto nell'enciclica casti connubi è il patto d'amore indissolubile tra un uomo e una donna voluto e istituito da dio e questo certamente prima del peccato originale perché come ho detto facciamo lo switch solito spot pubblicitario dei video l'altro ieri nella catechesi sulla nella catechesi biblica sul libro della genesi a capitolo 2 del libro della genesi c'è l'istituzione del sacramento del matrimonio al capitolo 2 non al capitolo 4 abbiamo tante volte incontrato durante questa trattazione la notazione fatta da tantissimi padri quando è che si uniscono ad amo ed eva e nascono a bele caino genesi 4 1 dopo il peccato originale ma quando è che dio dice per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre alla fine del capitolo 2 del libro della genesi che stavolta è sossa della mia cosa quindi il matrimonio è stato istituito da dio nello stato di giustizia originale è per questo che quando a gesù gli chiedono l'ho detto 50 100 miliardi di volte ma ripeto a juvent diceva perché mosè il divorzio è lecito mosè ha dato il permesso di divorziare e lui dice per la durezza del vostro cuore mosè ha dato questa norma ma al principio non fu così non dice pesi in effetti guarda mosè ha dato il permesso perché ancora le cose non erano tanto chiare però io adesso istituirò il sacramento del matrimonio anzi lo ha già istituito indirettamente alla nozze di cana perché questo discorso è capitato dopo la chiesa ha sempre visto nella presenza di gesù alla nozze di cana la sua volontà di santificare le nozze attraverso il sacramento no non risponde questo non dici io sto adesso la mia chiesa c'è ora un bel sacramento per cui tutto tranquillo sono tutti quanti santi e però sacramento indissolubile quindi fine dei divorzi dopo no no non dici ha fatto questo dice che questo era nel progetto originario di dio questo sta nel diritto naturale non sta nel diritto sacramentale il matrimonio e con questo già così comprendiamo che il matrimonio non serve cioè abbiamo sposo perché dobbiamo avere il sigillo dell'indissolubilità il sacramento del matrimonio la sigilla l'indissolubilità ma non la costituisce perché la l'indissolubilità è fondata sul diritto di natura sul matrimonio istituito da dio nell'eden non sul sacramento come gesù ribadisce nella disputa con i farisei sul divorzio quindi questo matrimonio è stato istituito da dio e prima del peccato ma un'altra cosa è l'uso del matrimonio specialmente questo luso che se ne fa adesso che chiaramente la relazione sessuale fra i conugi la chiesa usa sempre un linguaggio sobrio uso del matrimonio usare del matrimonio significa questo la quale nell'attuale condizione di natura lapsa è naturale e indispensabile per la propria azione ma secondo l'ipotesi di questo lavoro e di diversi padri della chiesa è stata instaurata proprio dal peccato di origine e che non era prevista nella condizione di natura originaria il papa afferma in modo chiaro che sostenere che il sacramento santifica l'uso attenzione santifica l'uso del matrimonio capite che significa fino a fare uno strumento più efficace ancora che la verginità per unire le anime significherebbe devo usare un'espressione un pochino cruda che fa che che esercitare la sessualità usare il matrimonio dentro del sacramento attraverso quegli atti fatti nel sacramento ti santifichi più di un vergine insomma insomma cioè uno strumento più efficace che la verginità per unire le anime a dio cioè tu attraverso l'uso del matrimonio ti unisci a dio nel complimento di quegli atti insomma questo è veramente un po' troppo no è un errore pericoloso afferma pio dodicesimo e ne viene di conseguenza che la verginità è un mezzo più efficace per unire le anime a dio attenzione più efficace però non del matrimonio ma dell'uso del matrimonio e questo perché perché se uno dicesse semplicemente del matrimonio allora giuseppe e maria che erano uniti in matrimonio eh non era un matrimonio per scherzo che facciamo non si sono santificati avevano un ostacolo nel matrimonio non nel matrimonio ma nell'uso post lapsario del matrimonio questo sì quindi poiché l'unione dell'anima con dio coincide con il fare la sua volontà aggiungere così alla santità non deriva logicamente che la verginità è più gradita a dio della relazione sessuale anche all'interno del matrimonio pur essendo essa lecita capiamo quello che sta dicendo no? ecco perché i coniugi possono astenersi per un certo periodo sia pur di comune accordo e non fanno nessun peccato cioè attenzione non è un peccato per i coniugi astenersi di comune accordo è un peccato grave grave attenzione quando uno dei due contro la volontà dell'altro si dice in teologia morale nega il debito coniugale questo non si può fare attenzione ed è un peccato grave secondo Sant'Alfonso non è un peccato lieve chi sceglie la via del matrimonio non può sottrarsi ai doveri del matrimonio anche a questi unilateralmente se sono d'accordo tutti e due pro tempore ho detto che ho già raccontato esistono coppie anche oggi evidentemente che lo fanno in maniera del tutto libera e volontaria in spirito di penitenza in spirito di rinuncia la penitenza cristiana è una cosa bella che a un certo punto dicono di comune accordo continuando ad amarsi con un amore che cerca di ridiventare simile a quello che avevano la coppia dei nostri progenitori prima del peccato originale ci asteniamo dai rapporti sessuali senza fare voti senza fare cose almeno a lungo termine non precipitosi o cose di questo genere nessun problema esistono coppie una cosa molto rara ma io ne ho conosciuta qualcuna che erano sposati a un certo punto hanno fatto voto di castità e non solo a un certo punto hanno sentito la vocazione io conosco non vi dico dove non vi dico chi una coppia che sono stati marito e moglie e entrambi in vita attenzione sono diventati uno prete e l'altra sua chiaro che bisogna fare un discernimento perché d'accordo tutti e due d'accordo tutti e due hanno fatto un tempo di castità matrimoniale che hanno fatto peccato mortale e quelli là assolutamente no e quelli davanti a Dio sono ancora marito e moglie si può fare questa cosa qua evidentemente in circostanze del tutto straordinarie se come dire unirsi usando del matrimonio fosse obbligatorio sotto pena di peccato non ci si potrebbe astenere nemmeno di comune accordo e nemmeno per la quaresima e nemmeno per una settimana è chiaro questo qui per questo che dico bisogna sempre far funzionare la testa se ci si può astenere purché di comune accordo e per dedicarsi alla preghiera e ordinariamente per un tempo limitato dice San Paolo ma se addirittura si può arrivare a questo estremo così come per esempio se uno dei due sente la vocazione e l'altro è d'accordo a discernimento certamente del vescovo e dei superiori è possibile una cosa di questo genere non è impossibile mentre non è possibile a un vergine consacrato o a un prete passare a matrimonio senza un provvedimento particolare che è un indulto da parte dell'autorità ecclesiastica che viene dato a certe condizioni il processo contrario di per sé è più fluido è più lineare perché non si tocca il matrimonio si tocca l'uso appellandosi poi al brano di Primo Corinzi 7,5 riprendo la citazione il Papa lo interpreta nel senso in cui lo hanno interpretato tanti padri della Chiesa e cioè che l'astensione di comune accordo dei coniugi dall'uso del matrimonio di comune accordo procura all'anima maggiore libertà per attendere alle cose divine e pregare anche qui possiamo chiederci se la relazione sessuale nel matrimonio fosse realmente contenuta nel comando divino siate fecondi e moltiplicatevi il famoso comando di questo questo è di Genesi 1 non di Genesi 2 per quale motivo astenersene procurerebbe all'anima maggiore libertà per pregare e unirsi a Dio per maggiore libertà non si può certamente intendere maggior tempo a disposizione perché un atto coniugare non è che porta via molto tempo io non sono molto pratico ma presumo insomma che non sono pratico perché l'ha fatto insomma evidentemente il Papa per maggiore libertà intende qualcosa di diverso dalla vera e tempo a disposizione si tratta di un fatto interiore il testo di San Paolo di 1 Corinthians 7,5 dice testualmente non rifiutatevi l'un l'altro se non di comun accordo e temporaneamente per dedicarvi alla preghiera poi tornate insieme perché Satana non vi tenti mediante la vostra incontinenza ecco il punto ed ecco perché è peccato mortale sottrarsi all'atto coniugale perché siccome dopo il peccato originale c'è la concupiscenza e siccome l'unica forma di lecita di soddisfazione di essa è il matrimonio se tu unilateralmente togli al coniuge quel canale lecito di soddisfazione di questo impulso lo esponi il peccato perché qualunque atto faccia al di fuori del matrimonio fa peccato dal peccato impuro a solitario a come dire andarsi a a cercare altre soddisfazioni ecco perché ci vuole prudenza prosegue San Paolo vorrei che tutti fossero come me ma ciascuno riceve da dire il proprio dono chi in un modo chi in un altro come tutte quante le persone felicemente vergini San Paolo non può dire nient'altro che vorrei che tutti fossero come me io pure ma non perché uno vuole come dire plagiare o verginizzare il mondo intero perché se uno vive bene la propria verginità consagrata avverte una tale gioia e una tale felicità che vorrebbe che la viessero tutti è in forma uguale a come la vive lui perché Paolo prosegue l'autore con lui la chiesa accorda e con oggi il permesso di astenersi dall'uso del matrimonio per dedicarsi alla preghiera perché e perché questa astensione ci permette di pregare meglio e di unirci in modo migliore a Dio come disposta si potrebbe fare un paragone con l'astensione dal cibo digiunando offriamo un sacrificio credito a Dio ed egli ci accorda maggiori grazie spirituali ed anche materiali e la stessa cosa possiamo farla stenendoci dai rapporti coniugali potrebbe anche essere così a mio parere però non esiste una perfetta corrispondenza tra i due tipi di astensione e c'ha ragione il cibo è una necessità indispensabile a meno che Dio non intervenga miracolosamente come ha fatto con alcuni santi per esempio Teresa Neumann per citarne una famosa che si sono nutriti per decenni della sola eucaristia astenendoci dal cibo noi ci proviamo di qualcosa di assolutamente necessario quindi la stazione è per forza di cose solo temporanea se no se muore ecco astenendoci invece dai rapporti coniugali ci si pria di qualcosa che non è necessario in modo assoluto tanto è vero che chi fa la scelta della virginità se ne pria per tutta la vita se ne pria felicemente per tutta la vita è vero che con entrambi i tipi di astensione possiamo offrire un sacrificio carito a Dio ma secondo il mio parere l'elemento essenziale che fonde il merito di ciascun tipo di astensione è diverso digiunandoci si pria temporaneamente di qualcosa di cui non si può fare a meno ed è questa l'essenza del merito del digiuno astenendoci invece dai rapporti coniugali ci si pria di qualcosa di cui è possibile fare a meno e per il tempo in cui i coniugi fanno questa scelta essi vivono nella condizione migliore e più felice di coloro che scelgono di rimanere nella virginità come abbiamo visto che afferma il canone 10 sotto chiarimento del matrimonio del concilio di Trento ed è questa a mio parere l'essenza del merito di tale astensione perché come abbiamo detto sopra la virginità più gradita a dio della relazione sessuale anche all'interno del matrimonio pur essendo essa lecita d'accordo evidentemente prima di vivere una cosa di questo genere occorre fare gli scernimenti ci sono stati nel corso della storia matrimoni bianchi uno dei casi molto molto famosi è quello di Sant'Enrico e di Santa Cunegonda che Santa Cunegonda voleva rimanere vergine e Sant'Enrico gliel'ha concessa un caso ancora più famoso antico è Santa Santa Cecilia se non ricordo male sì Santa Cecilia nei confronti del marito pagano di Valeriano va in sposa al pagano basta leggere l'atto del martirio è la prima notte di nozio quello che era un pagano e gli si avvicina come è normale dice non t'azzardare che c'è sta l'angelo custode che se mi tocchi vedrai quello che succede è cominciata così la storia poi Valeriano si è convertito si è fatto battezzare e poi sono morti i martiri prima Santa Cecilia e poi Valeriano col fratello pure dovrebbe essere chiamato Tiburzio se non ricordo male tutti i martiri sono cose che possono starci quindi il primato della virginità per un cattolico rimane assolutamente indiscutibile indiscusso e indiscutibile guacchi lo tocca non ci sia azzardi a entrare su questo su questo coso perché dopo il momento della morte ecco in paradiso nostro signore e sua madre dicono com'è dico ce lo concedi che Gesù e Maria cioè Gesù è anche Dio ma insomma è anche il capostipide della nuova creazione quindi è vero uomo e la Madonna è donna al 100% saranno i due migliori del genere umano si spera no? quindi se sono i due migliori e questo ci dobbiamo stare cioè Gesù e Maria non hanno mai fatto niente che non fosse l'ottimo quindi la cosa migliore di tutte e quindi se hanno fatto la cosa migliore di tutte amici miei vogliamo andare di là e dirgli beh potevate sposarvi cioè sto se qualcuno mette in discussione questo principio quando muore io mi immagino ecco con tanta carità e con tanta bontà dicono figlio mio figlia mia rifletti ma se sposarsi fosse la cosa migliore fosse superiore alla verginità usando del matrimonio ti pare che io non mi sarei sposato e usato del matrimonio e mia mamma che era sposata non avrebbe comunque usato del matrimonio punto interrogativo se questa era una cosa tanto santificante e tanto perfettissima eccellentissima allora prima di passare al resto l'autore a questo punto fa delle considerazioni finali abbastanza interessanti possiamo aprire un attimo questa parentesi ci sono considerazioni che riguardano anche l'anatomia e la fisiologia del corpo femminile anzitutto la donna nel partorire soffre e soffre tanto il parto è doloroso oggi sappiamo bene che sia nel parto cesareo sia nella la cosiddetta epidurale è possibile il parto senza dolore io il parto cesareo è necessario in certe condizioni quindi non c'è nessun problema sull'epidurale io se fossi una donna ci rifletterei insieme perché sta scritto nel nuovo testamento che la donna si salverà partorendo figli quindi quel dolore è un dolore che è stato voluto da Dio e quindi quel dolore bisogna viverlo così come l'altro che le donne poverine vivono che è quello non credo ai livelli del parto sicuramente no ma è quello legato alla mortificazione mensile che devono vivere nella propria persona ora osservando i parti di alcune femmine di mammiferi dice l'autore a partire da animali di piccola taglia come gatti e conegli e passando da animali più grandi come cagni capre e pecore poi di grossa taglia come cavalle e mucche si nota generalmente che il parto avviene in assenza di dolore senza grandi difficoltà non soffrono questi animali nel partorire avendo passato gran parte della mia vita in campagna ho avuto la possibilità di osservare direttamente i parti di quasi tutte queste femmine di animali e tranne casi sporadici non ho notato lamenti o gemiti che manifestassero la presenza di dolore nel parto è da notare che nella donna il diametro medio del canale vaginale è di circa 5 cm mentre il diametro della testa del bambino in media è di 10 cm il canale vaginale viene quindi dilatato dal passaggio del bambino ma la sproporzione fra le due misure non è maggiore nella donna di quanto lo è nelle femmine e degli animali per esempio fra la vagina della pecore e l'agnello che vi deve passare inoltre i dolori del parto iniziano prima che la testa del bambino impegni il canale vaginale il parto con dolore dunque sembra essere una caratteristica esclusiva della donna il cristiano è consapevole che questo stato di cose è un castigo inflitto da Dio in conseguenza del peccato di origine viene però spontaneo domandarsi perché Dio ha deciso che questo castigo doloroso colpisca un evento così meraviglioso e pieno di gioia come il mettere al mondo un figlio che inoltre costituisce un'obbedienza al suo comando di crescere e moltiplicarci io non riesco a trovare un'altra risposta possibile che questa perché è nella dimensione della generazione che in conseguenza del peccato di origine è stato commesso un altro peccato altrimenti mi sembrerebbe che questa fosse quasi una crudeltà da parte di Dio vedete le persone che ragionano ma perché perché il dolore del parto perché a mio avviso c'è anche un'altra possibilità di lettura perché i cosiddetti castighi di Dio questa è un'ipotesi io la la propongo non è detto che sia vera allora i castighi di Dio molte volte non sono interventi positivi cioè mi spiego tu hai fatto questa cosa e adesso io ti castigo ti infliggo questa pena la pena cioè il castigo è la conseguenza dell'azione cioè hai trasgredito queste sono le conseguenze e Dio si attribuisce a Dio come castigo perché perché quelle conseguenze te le lascia prendere nell'ipotesi che vedremo alla prossima volta se Dio vuole c'è proprio questo qui cioè siccome allora perché gli animali non partoriscono perché non soffrono perché la riproduzione sessuata per loro è voluta da Dio è legge di natura l'ipotesi di Maria Valtorta permette di fare questo salto ulteriore perché la donna soffre perché il peccato originale è stato proprio il voler introdurre questa modalità di generazione nel genere umano che non è la sua e questo causa sofferenza altra cosa ancora la donna ha limene adesso mi si perdoni scherzo discorsi un pochino scabrosetti però che ci vogliamo fare un altro elemento di tipo anatomico al quale si deve prestare attenzione è la presenza dell'imene che i tratti di anatomia umana descrivono particolare particolareggiatamente la cavità vaginale che si trova all'interno del corpo procedendo verso l'esterno è il cosiddetto orifizio vaginale che la fa comunicare con il vestibulo della vagina cioè la prima parte interna che si trova divaricando le grandi labbra l'orifizio vaginale ha caratteri differenti nella donna vergine e nella donna che ha avuto rapporti sessuali e nella donna che ha partorito nella donna vergine si trova nel contorno dell'orifizio vaginale una piega o membrana chiamata imene che lo restringe considerevolmente e che separa in maniera molto netta la vagina dal vestibolo normalmente la membrana dell'imene non è completamente chiusa ma ha un orifizio che è rotondo ed ovale ed è variamente ampio come un pisello o una ciliegia a seconda dello sviluppo dell'imene di solito l'imene è una membrana sottile poco resistente facilmente racerabile però è soggetto a numerose variazioni e anomalie a seconda delle varie forme l'imene è detto semilunare anulare bilabbiato dentellato setto e cribiforme queste cose io mai sentite comunque leggo la sua grossezza e resistenza vanno soggette a molte variazioni a volte è racerabile con grande facilità mentre talora è più resistente ed elastico e l'introduzione del pene nella vagina può venire senza che esso si laceri più raramente l'imene può presentarsi grosso carnoso fibroso e resistentissimo così da opporre al rapporto sessuale un ostacolo insormontabile e da rendere addirittura necessario un intervento chirurgico per renderlo possibile nei primi rapporti sessuali l'imene di regola si lacera e si formano alcune fenditure che variano per numero e per sede a seconda di come era la sua forma per effetto della lacerazione avviene normalmente l'emissione di una scarsa quantità di sangue e rapidamente avviene la cicatrizazione dei piccoli lobuli che rimangono così resta la situazione fino al momento del parto quando ha luogo un trauma più profondo per il passaggio della testa del bambino tutti questi dati sono anatomici quindi su questi dati non si può discutere ora come affeno Giovanni Paolo II l'uomo è un cercatore della verità e quindi viene naturale chiedersi ma a che cosa serve l'imene? ogni parte del nostro corpo di solito ha una sua ben precisa funzione cioè esiste per uno scopo ben definito e questo Cristiano lo sa bene perché Dio che è il creatore del nostro corpo lo ha fatto perché ogni sua parte servisse a qualcosa dato che Egli non fa niente per caso e non fa niente di inutile a differenza di noi aggiungo io per quanto riguarda la parte anatomica in questione conservando conversando con un amico ginecologo che ha almeno 30 anni di esperienza mi sono sentito dire che per quanto lui sapeva da suoi studi e dalla pratica medica l'imene non ha alcuna funzione o utilità se non quella di essere lacerato causando una piccola fuoriuscita di sangue al momento del primo rapporto sessuale o io leggo queste cose e non ci capisco niente io però sapevo queste cose e ci avevo pensato anche io a queste cose qui però questi particolari tecnico-scientifici io non li conoscevo se l'atto che dà origine alla generazione come noi lo conosciamo corrispondesse al progetto originario di Dio dunque Egli avrebbe dunque creato con tale forma l'organo sessuale femminile solo perché fosse lacerato al momento della prima unione fisica ma e Dio non fa cose inutili e non fa cose insensate insomma se il canale vaginale è stato fatto apposta perché vi fosse introdotto il pene per poter generare una nuova vita ma perché Dio vi avrebbe posto una barriera all'ingresso come per sbarrare la strada io non riesco a vedere una risposta logica è vero che la nostra mente è piccola non possiamo comprendere tutte le ragioni di Dio guardate le considerazioni che fa quest'uomo la mia ragione però che Egli mi ha dato perché la usi mi porta a rispondere che questa barriera all'ingresso femminile equivale ad un segnale di divieto di accesso nel senso che nel piano originario di Dio non era quella la strada da percorrere per generare altri esseri umani per chiudere questa riflessione mi sembrano molte adatte le parole già viste di Girolamo a suo tempo di San Girolamo perché poi tutti persuadati che la virginità è lo stato di natura e che le nozze sono venute dopo il peccato ricordati che la carne nasce perdina dalle nozze restituendo così nel frutto quel che aveva perduto nella radice lui conclude sono convinto che la disobbedienza al comando divino privando i progenitori dello stato di santità giudizio originale in cui erano stati costituiti ha messo a nudo la debolezza delle loro solle forze senza l'aiuto di Dio e li ha esposti al desiderio di godere di piaceri sensibili al di là del lecito ci sono infatti dei piaceri sensibili leciti e altri che invece sono illeciti e c'è una ricerca stessa dei piaceri sensibili leciti che a motivo dell'intemperanza diventa illecita o almeno pericolosa perché concentra la sua attenzione sul piacere in se stesso instillando nella persona una sede malvagia che può diventare insanziata i padri spirituali sono concordi nell'affermare che chi vuole godere di tutto ciò che è lecito fino a rasentare il confine di ciò che è proibito prima o poi sconfinerà cadendo nel lecito condivido pienamente le concezioni teologiche e antropologiche della stragrande maggioranza degli autori presi in esame anch'io sono dell'opinione che la condizione prelapsare dell'umanità fosse caratterizzata dalla verginità come stato di vita voluto da Dio a questo punto abbiamo veramente concluso forse qui ci sono altre considerazioni conclusive che lui fa che magari riprenderemo al termine dell'ulteriore analisi che cominceremo dalla prossima volta la prossima volta cominceremo a vedere cosa per chi ci crede il Signore ha rivelato a Maria Valtorta sul peccato originale proprio sul peccato originale non solo sulle conseguenze che cosa sarebbe successo nel giorno in cui il diavolo andò a tentare la donna la fece cadere ed essa trascinò l'uomo alla rovina tutto alla prossima puntata Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga che c'è che c'è